Ciao a tutti amici di Avore Magazine, per la video recensione di oggi vi presentiamo la custodia in silicone della Puro per il Sony Ericsson Arc S, una comoda custodia, come vedete flessibile, per il modello di punta di Sony Ericsson. Andiamo a vedere l'inserimento che è molto semplice, quindi non dovremo avere nessuna accortezza nell'inserirlo, ma dovremo solamente effettuare delle lievi pressioni sugli angoli. Ecco come si presenta, questo è il modello trasparente, ma c'è anche sul sito della Puro.it il modello Fumé. Come vedete tutte le porte sono ben accessibili, quindi la parte della fotocamera e le varie porte, il microfono. E per quanto riguarda i controlli, come vedete qui del volume per alzare e abbassare, sono incassati dentro la custodia di silicone. Comunque è molto comodo anche abbassare e aumentare il volume. Questa custodia molto versatile della Puro ha un costo di 9,99€ e la potete trovare direttamente sul sito di Puro.it. Quindi se stavate cercando una custodia per il Sony Ericsson Xperia HS, questa della Puro è un'ottima soluzione che proteggerà il vostro Xperia da grafi o da urti. Bene ragazzi, per questa video recensione è tutto, ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!